ha piato i suoi orizzonti e le risposte. Allora, un'edizione questa di Carton Sea che ormai è entrata nel cuore di tutti i fanesi e non solo. Aspettano questo appuntamento con grande entusiasmo. No, questo che può sembrare un'affermazione così è vera, perché mi sono trovato anche pochi giorni fa a ricevere sui social delle domande. Quando è la data della prevenzione di Carton Sea non vedo l'ora, tendo di venire, eccetera. E però, come dicevi giustamente, ha una risonanza anche a livello nazionale, perché siamo, mi dicono gli addetti ai lavori, a parte che siamo la decima edizione, che già è un primato perché molti concorsi di satire e di umorismo terminano prima. Però siamo anche l'unico concorso nazionale che tratta i temi della sicurezza sul lavoro e della tutela ambientale. Quindi è un motivo di ulteriore soddisfazione il fatto che il nostro concorso nazionale, nato dieci anni fa, è arrivato a una buona posizione. E che chiamiamo così un po' presuntosamente... Grazie.